Cinghiale in strada, schianto fatale contro un albero, tragedia sul viale dei Tigli, un uomo di 55 anni ha perso la vita nella notte dopo lo scontro tra la sua auto e un grosso ungulato. Ladri di marmitte catalitiche, di nuovo in azione nella notte, nel mirino ancora sistema ambiente, stavolta a nave, ma anche serchio motori, colpiti in totale 11 mezzi. Sesso in spiaggia davanti ai bagnanti e polemica a Viareggio per un episodio avvenuto sulla spiaggia libera della Lecciona, nello spazio riservato ai nudisti. A lanciarla il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Alessandro Santini. Jasmine tutta grinta vola in semifinale agli internazionali di Polonia, la Paolini convince superando la Svizzera Gulubic in 3-7. Sabato la semifinale dove l'aspetta la numero uno al mondo, Iga Swiatek. Ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale, lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura in primo piano. Il tragico incidente a Viareggio in cui ha perso la vita un uomo di 55 anni. Partiamo da qua. È stato l'incidente provocato dall'impatto contro un cinghiale che attraversava la strada a causare la morte di un uomo di 55 anni di Forte De Marmi, Dario Volpe, nella sera di giovedì su Viale dei Tigli. L'uomo stava procedendo a bordo della sua Smart in direzione Viareggio quando, poco prima di Villa Borbone, è avvenuto lo scontro contro l'animale, un cinghiale di grossa taglia, la cui carcassa è rimasta a bordo strada fino alla mattina successiva. Nell'impatto il Volpe ha perso il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro un albero distante una decina di metri. L'intervento dei sanitari del 118, seppur tempestivo, non ha riuscito a tenere in vita l'uomo che è deceduto lungo il tragetto in ambulanza verso l'ospedale. Volpe era molto conosciuto a Forte De Marmi dove aveva gestito una pescheria insieme al padre. Ultimamente era impiegato alla tosco pesce di Bicchio, separato, aveva due figli. I rilevi dell'incidente sono stati affidati alla Polizia Municipale del Comando di Viareggio. Una tragedia questa che ripropone il tema della pericolosità causata dall'elevato numero di cinghiali presenti anche al di fuori dell'area del parco. E sulla situazione fuori controllo degli ungulati è intervenuta anche col diretti. Il viale dei Tigli è tra le strade più pericolose a causa della presenza ormai fuori controllo degli animali selvatici, cinghiali e caprioli, che mette costantemente a rischio la sicurezza degli automobilisti, insieme alla Lodovica, alla Pesciatina e alla Via Romana. A denunciarlo poco più di un anno fa fu col diretti Lucca che aveva realizzato una mappatura delle strade provinciali dove gli incidenti con animali selvatici erano più frequenti. E il viale dei Tigli, dove si è comata l'ennesima tragedia costata la vita ad un 55enne di Forte dei Marmi, era tra quelle. Lo scorso 13 luglio era stata un'auto medica ad essere investita da un daino, mentre nel novembre 2020 fu una donna che nello scontro contro un cinghiale finì all'ospedale. Questa ennesima tragedia, afferma col diretti, dimostra come la situazione sia ormai ingovernabile e che serve a un piano di contenimento straordinario per ridurre velocemente il numero degli esemplari. Parliamo di 500.000 capi in tutta la regione, c'è un cinghiale ogni 8 abitanti, siamo ben al di sopra di qualsiasi rapporto di sostenibilità. Per l'ennesima volta, con la speranza che si capisca che questo problema non può più essere rimandato, chiediamo la modifica della legge per un ampliamento della caccia in modo da riportare la popolazione di questi animali dentro un numero di esemplari che possa essere compatibile con quella che è la nostra sicurezza e con quella che è la sicurezza della nostra agricoltura. E restiamo a Viareggio, è morto dopo una settimana di agonia all'ospedale di Livorno, il 31enne originario del Marocco, che martedì 19 luglio scorso si diede fuoco di fronte al commissariato di polizia di Viareggio. Cambiamo decisamente pagina, ci spostiamo a Coreglia, a Antelminelli, dove sono state ore di apprezzione per l'incendio divampato lo scorso giovedì. Ad è stato preoccupazione ed anche un notevole dispiego di uomini e mezzi, l'incendio che nel pomeriggio di giovedì, a seguito di un temporale sviluppato sul Piamonte e sull'Appennino, ha colpito e distrutto più di 20 ettari di bosco nelle colline sopra Coreglia, nella zona tra Crocialetto e Piastroso. Si è parlato di temporale, perché a quanto pare ad innescare l'incendio sarebbe stato proprio un fulmine. I lavori di spegnimento sono andati avanti senza sosta. Si è temuto durante la notte anche per alcune abitazioni nella zona del Crocialetto, dove i vigili del fuoco hanno lavorato insieme alle squadre antincendio per tenere sotto controllo le fiamme ed impedire che si avvicinassero alle case. Proprio in questa zona, nella mattinata, erano ancora presenti gli uomini dei vigili del fuoco e qui erano in corso le prime operazioni di bonifica a cura delle squadre antincendio dell'Unione Comune Garfagnana. Qui invece siamo più a nord, zona Piastroso, dove nella mattinata, utilizzando una vecchia mulattiera come linea di demarcazione, a cura degli operai del servizio antincendio dell'Unione Comune della Mediavalle, è stato acceso un cosiddetto controfuoco per impedire alle fiamme di scendere più a valle. Provvidenziale è stato anche l'intervento degli elicotteri, che hanno lavorato giovedì fino al tramonto. Nelle prime fasi dell'incendio ne sono stati impegnati quattro contemporaneamente ed anche nella mattinata successiva, all'alba, è proseguita la loro opera, mirata, dopo aver domato i punti più pericolosi, a favorire le operazioni di contenimento e controfuoco in corso. Il termine per le principali operazioni di spegnimento, non certo per quelle più lunghe di bonifica, era prevista per la metà di venerdì. L'incendio delle montagne di Coreglia, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi in Versilia, ha tenuto tutta la Valle del Serchio, risvegliatasi sotto una densa coltre di fumo con il fiato sospeso. Le operazioni condotte sono però state tempestive e particolarmente efficaci ed hanno indubbiamente impedito sviluppi più gravi grazie al lavoro di tanti uomini. Tra i disagi dell'incendio, anche la chiusura della strada da Coreglia a Piastroso. Furti di catalizzatori nella notte, un doppio colpo. Sono tornati in azione dopo appena 24 ore, i ladri di catalizzatori, stavolta mettendo a segno un doppio colpo. Nel mirino dei delinquenti, ancora sistema ambiente, che dopo i 17 mezzi danneggiati la scorsa notte nella sede di Borgo Giannotti, conta altri 4 camioncini manomessi, di cui uno appena riparato, al centro di raccolta di nave. Nel corso della notte si sono introdotti qui nello stabilimento di nave, dove abbiamo l'officina e hanno tagliato alla stessa maniera la parte della marmitta, dove sono presenti i metalli nobili e quindi la parte catalitica, tagliando con la mola elettrica, si immagina, la parte interessata. E quindi si sono introdotti, stiamo visionando ora le registrazioni video per riuscire a capire se ci sono informazioni utili alla questura, però supponiamo che si siano introdotti dalla parte perimetrale, dove non ci sono registrazioni o telecamere di controllo. Si pensa che sia attribuibile ai medesimi autori il ride nella vicina officina della Serchio Motori sulla via Sarzanese, dove sono state tagliate, sempre con la mola elettrica, le marmitte catalitiche a 7 vetture, 3 all'esterno e 4 all'interno della concessionaria, che, come la municipalizzata, non è nuova a questo tipo di furti. Ecco il prezioso catalizzatore, i cui metalli rari, platino, palladio e rodio, valgono 10 volte di più dell'oro. Un danno di circa 800 euro a mezzo per sistema ambiente, a cui si aggiunge anche la difficoltà di garantire il servizio con un parco mezzi decimato. Stiamo cercando di recuperare con i mezzi disponibili e abbiamo allertato le utenze che ci saranno dei piccoli servizi, però stiamo cercando di recuperare il quanto possibile. E veniamo agli aggiornamenti riguardo all'andamento della pandemia. Sono 2.711 nuovi positivi a livello regionale, il tasso di positività cala al 17,1%, 717 i numeri, i pazienti ricoverati nei posti letto Covid, 30 è invece il dato relativo alle terapie intensive. Si registrano 8 decessi, 3 dei quali nella nostra provincia di Lucca. Ecco allora anche il dato provinciale, sono 365 i nuovi contagiati in provincia. Ci spostiamo a Viareggio, scene di sesso alla spiaggia naturista, la denuncia di Alessandro Santini. Sono inequivocabili le immagini diffuse dal consigliere della Lega Alessandro Santini che documentano scene di sesso esplicito consumate in pieno giorno nel tratto di spiaggia della Lecciona che è stato destinato al turismo naturista. Secondo Santini la situazione è completamente fuori controllo e si sono raggiunti livelli tali da richiedere urgentemente l'intervento del sindaco, della polizia municipale e delle altre forze dell'ordine per evitare che questa diventi una terra di nessuno dove tutto è lecito e che poco ha a che fare con il vero turismo naturista. Sono scelte amministrative, sono scelte politiche, scelte turistiche, un po' scelte culturali. Può andar bene tutto, non mettiamo becco su queste scelte, ma che si rispettino le regole e si rispetti la decenza. Ma il limite della decenza è stato ampiamente superato e quello che si vede andando alla spiaggia di nudisti è inaccettabile. Che diventi una spiaggia dove si può copulare, che si può far sesso alla luce del sole davanti a tutti, grandi, vecchi, giovani, bambini, non lo accetto, non lo tollero. Che intervenga il sindaco, che intervenga il comandante della polizia municipale, che intervenga il prefetto se ha voglia, ma che intervengano carabinieri e polizia perché questo scempio, questa schifezza deve essere immediatamente fermata. A Palazzo Ducale è stato presentato il programma per le celebrazioni del 78esimo anniversario della scomparsa di Donaldo May. Un programma di celebrazioni ed eventi che andrà avanti per tutto il mese di agosto in memoria del sacrificio di Donaldo May, il sacerdote che 78 anni fa, la sera del 4 agosto 1944, sugli spati delle mura a Porta Elisa, venne fucilato da un protone della Wehrmacht e sepolto nella fossa che lui stesso era stato costretto a scavarsi. La presentazione del calendario a Palazzo Ducale ha la presenza delle istituzioni locali, dell'Arcidiocesi di Lucca e dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Lucca. È un programma condiviso tra tutto il tavolo che ha firmato sul tempo la convenzione che istituisce questo tipo di ricorrenza. Sono cinque giornate particolarmente intense che vanno dalla presentazione di libri a momenti liturgici, a momenti di rappresentazioni teatrali. È una rappresentazione particolarmente coinvolgente secondo me perché dà l'idea di quello che è lo spirito che questo giovane prete aveva, il modo con cui affronta la morte, così come aveva affrontato tutto il suo ruolo di sacerdote a Fiano. Lucca, Capanori e Pescaglia, tre luoghi simbolo di questa triste pagina di storia che rivive anche quest'anno attraverso celebrazioni liturgiche, performance teatrali, presentazioni di libri, mostre fotografiche e camminate. Una serie di iniziative per celebrare l'anniversario della scomparsa del religioso in una chiave di lettura condivisa e moderna che guarda soprattutto alle nuove generazioni affinché attraverso la conoscenza del passato riescano a comprendere meglio il presente. Torna Lucca Biennale Cartasi al via un'estate ricca di mostre, laboratori e performance. Un invito al visitatore a immaginare un futuro diverso, una prospettiva migliore. La pagina bianca è il tema scelto per Lucca Biennale Cartasia. Dal 31 luglio al 25 settembre Lucca ospita l'undicesima edizione della rassegna con un ricco programma di mostre, performance, laboratori e incontri. Per tutta l'estate dunque la città torna ad essere capitale mondiale dell'arte, dell'architettura e del design in carta. È un'edizione davvero particolare perché abbiamo in mostra delle opere non solo di arte incredibile, di scultura e di varie tipologie tecniche veramente incredibili, realizzate con carta proveniente da tutto il mondo, ma anche elementi di architettura di queste aziende italiane molto riconosciute sul territorio non solo nazionale ma internazionale. La manifestazione, promossa da nove muse, impresa sociale, dalla regione, dal comune, dalla provincia e dalla fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, col patrocino del Ministero della Cultura e della Transizione Ecologica, si sviluppa tra le piazze e le vie del centro storico della città, oltre che a Palazzo Ducale e nelle nuove location di Villa Bottini e della cannoniera della Casa del Boia. Particolare attenzione all'interno di Lubica è rivolta al tema della sostenibilità, da sempre uno dei valori che la Biennale si propone di promuovere e che sta assumendo un'urgenza sempre più inderogabile. Sicuramente ci sarà molta presenza, aspettiamo molta presenza perché appunto dopo questo fermo c'è voglia di ripartire e poi queste sono le manifestazioni punta di Lucca, dove Lucca punta e soprattutto perché ha un bagaglio storico, un bagaglio industriale molto importante. Qualità dell'aria al Centro Culturale Artemisia di Capannori sono state presentate, le prime conclusioni dello studio WEG PM10. Migliorare la qualità dell'aria e combattere il cambiamento climatico, con particolare riferimento alla concentrazione di polveri sottili in atmosfera, è l'obiettivo dello studio WEG PM10, le cui conclusioni sono state presentate al Centro Culturale Artemisia di Capannori alla presenza dei comuni della Piana, che hanno preso parte all'indagine condotta dall'Università di Firenze e dal CNR Università di Pisa, in collaborazione con ARPAT. L'emergenza ambientale più urgente da affrontare per il nostro territorio, che appunto è quella dell'inquinamento da polveri sottili. Lo studio, realizzato grazie al contributo e sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha preso in esame le rilevazioni delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria a Capannori, Lucca, Porcari ed Alto Pascio, ed ha poi eseguito studi sulla vegetazione, evidenziando in particolare il ruolo delle piante per la riduzione del particolato atmosferico. Un monitoraggio puntuale diffuso sul territorio aiuta da questo punto di vista a capire il fenomeno complessivo che c'è e che vogliamo continuare ad affrontare. Lo abbiamo affrontato insieme alla Regione con interventi di efficientamento degli impianti inquinanti, con tutta una serie di interventi che riguardano poi sostanzialmente i tre settori di intervento, che sono quello del riscaldamento, quello del trasporto, quello delle emissioni industriali. Questo progetto ci consente anche di apprezzare quello che è il valore degli alberi nella lotta alle polveri sottili. Infatti uno degli obiettivi è selezionare le specie arbore che possono essere messe a dimora e che contribuiscono a assorbire e a contenere il fenomeno delle polveri. È il momento della rubrica cura di Sergio Talenti, l'ancora. Capannori è stato scelto fra 100 città europee per diventare comune pilota sul riuso e il riciclo dei rifiuti. Obiettivo superare il 95% della raccolta indifferenziata. In pratica il rifiuto sparisce e diventa un prodotto nuovo per rientrare nel mercato. Si chiama economia circolare. E per far questo si punta soprattutto sul potenziamento della lotta all'abbandono dei rifiuti, la forte riduzione della plastica usa e getta, il recupero del rifiuto tessile ed altre significative iniziative di sistema. È una specie di miracolo dove a affluiscono buone politiche, comunità responsabili, tecnologie evolute, ma anche direi un'Europa che va avanti perché mette insieme le esperienze più mature e le ridistribuisce nei suoi 27 paesi. Capannori è il secondo comune della provincia per abitanti, ma non certo per spessore economico, se si considera la vastità della piena industriale e il peso del suo export. Ecco, l'avere intuito fra i primi comuni italiani che i rifiuti non sono un peso ma una risorsa, lo porta oggi al significativo riconoscimento di Bruxelles, che vuol dire più soldi, certo, per finanziare idee virtuose, ma soprattutto concreta transizione ecologica, un cardine della politica europea. È tutto per la prima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche istante e poi la nostra pagina sportiva.